ragazzi buongiorno da vedralla oggi vi dà il buongiorno il magnifico bullo guardate che ragazzi guardate che fate poveri fate poveri ma non so se è buono guardate qua che roba è accaldato anche se non è che fa tutto questo caldo solo che il ragazzo ha visto un gatto in canile e ho dovuto mettere il guinzaglio vero perché sei monello sei un pit monello guardate che spettacolo guardate che facciamo uscire questo ragazzo forza lui assolutamente no altri cani solo figlio unico più che figlio unico perché non sopporta assolutamente gli altri animali ma la sua bellezza è statuaria è fantastico solo a grandi amanti dei pit ma amanti dei pit nel senso che le rispettano perché lui ha già dato a lui ha già dato adesso lui serve qualcuno equilibrato che riesca a trasmettere un po del suo libro a lui ma amore mio guardate lo che è guardate lo che è ciao ciao buona giornata dal bullo a me ciao ciao